La violenza economica è una modalità, è una espressione della violenza comunque maschile sulle donne che non permette alle donne di essere o autonome nella gestione della parte economica, dei guadagni, dei profitti che hanno una disparità salariale invece nel mondo del lavoro oppure un mancato accesso alle disponibilità della famiglia. È la cosiddetta violenza economica, l'uso del denaro e l'accesso ad un impiego usati come mezzi di sopraffazione un fenomeno meno conosciuto rispetto alle altre modalità ma comunque molto diffuso. In Italia un terzo delle donne non ha un conto corrente intestato, questo è già una descrizione di quanto questo fenomeno sia sottointeso come se non fosse un problema. Proprio come la violenza fisico-psicologica ha come fine ultimo limitare la libertà e l'autonomia della donna anche nelle più piccole decisioni quotidiane. È un fenomeno che è molto subdolo e molto difficile da identificare perché fa parte della cultura in cui viviamo. Ancora ad oggi c'è una disparità salariale, questa discriminazione è una regola, è una prassi con cui ci si trova a doverci confrontare e questo rende difficile poi rivendicare dei diritti. Noi cerchiamo tramite i percorsi di fuoriuscita dalla violenza di far emergere anche questo aspetto per far capire proprio il passaggio culturale che sottosta questa tipologia di violenza e molto spesso però ci riusciamo a fargli rendere conto di quanto invece sia importante la propria autonomia soprattutto economica e quanto possono riuscire a fare autonomamente. Prevenzione ma anche educazione alla finanza le migliori difese personali contro questo tipo di violenza. Proprio per questo l'associazione Pronto Donna ha promosso e sta portando avanti dei progetti di informazione e di conoscenza in primis nelle scuole. Quindi andiamo nelle scuole a parlare con le ragazze e ragazzi anche in vista delle scelte professionali che andranno a fare di che cos'è la violenza economica e della disparità appunto salariale facciamo interventi rivolte alla cittadinanza e facciamo una ricerca dentro il Pronto Donna con le donne che si rivolgono a noi per capire che livello di informazioni di consapevolezza hanno per poter poi sviluppare gli strumenti adeguati per aiutarle e supportarle. Per le donne vittime di violenza è prevista una speciale misura di sostegno economico. Lo Stato italiano ha predisposto anche uno strumento che è il reddito di libertà per le donne vittime di violenza di genere che è uno strumento che difficilmente ad oggi è distribuito in un modo rispondente alle richieste che abbiamo ma piano piano sta prendendo strada e che è per le donne che svolgono un percorso riuscito dalla violenza e che hanno delle difficoltà economiche. Tutte le donne che pensano di vivere questa o altre forme di violenza possono chiedere aiuto al Centro Antiviolenza Pronto Donna di Arezzo. Noi siamo qui tutti i giorni da donne per le donne per cercare di fare la nostra parte in questo ambito che purtroppo ogni giorno sentiamo storie diverse e noi cerchiamo di fare la nostra piccola parte che però speriamo possa essere utile.